Allora è stata una sorpresa inaspettata visto che l'altro anno era finita in quella maniera quindi non ci aspettavamo un riprescaggio, siamo stati premiati con questa sorpresa e in 4-4-8 ci siamo praticati a cercare nuovi giocatori che potessero fare la differenza a differenza dell'altro anno che non sono riusciti poi a portarci indirettamente però la squadra è una squadra giovane, ben attrezzata che penso sicuramente con degli inesti che abbiamo fatto avranno dei risultati forse migliori l'altro anno abbiamo perso persone importanti, ruoli importanti che penso che potranno darci soddisfazione come tutte le neopromosse molte volte ci sono delle sorprese e speriamo di stupire sotto questo punto di vista anche perché so che il Cotton in un paio d'anni la prima l'ha sempre fallita quindi proviamo ad approfittare nel set 2 senza 3 sicuramente è un centimo in più per i ragazzi che magari vengono al campo motivati oltre il discorso del risultato della squadra è magari proprio una soddisfazione personale che poi può portare un quid in più al campionato sicuramente è una nota positiva